È una plenaria sicuramente importante sia per la tempistica e quindi a valle di un Consiglio europeo fondamentale per quanto riguarda gli scenari delle prossime settimane e dei prossimi mesi guardando a Oriente e guardando all'Ucraina sia perché viene ovviamente prima di una pausa estiva e perché ci sarà a nostro avviso una votazione importante che potrà impattare in maniera positiva o negativa su quello che è lo scenario sul mercato energetico quindi il voto sull'obiezione alla proposta per quanto riguarda la tassonomia verde fatta dalla Commissione europea se dovesse passare questa obiezione come noi non speriamo quindi con l'esclusione del nucleare e del gas quali elementi, quali fonti di transizione verso le rinnovabili vedremo di nuovo incrementare in maniera ancora più netta i costi dell'energia per le famiglie, per le piccole e medie imprese quindi sarebbe un'altra zappata sui piedi che le istituzioni europee si tirano in un momento in cui non possiamo permettercelo in un momento in cui la Russia sta tagliando le forniture